Sono giorni di trepida attesa per il Gela Football Club che spera in buone notizie da Palermo. La PEC non è ancora arrivata, ma la speranza che il termine eccellenza diventi ufficiale aumentano sempre di più. I posti liberi in organico da colmare sarebbero tre e non due dopo la rinuncia anche del Biancavilla, che non ha dato seguito all'iscrizione online. E gialloneri a sfogliare la margherita e a incrociare dita in attesa della fumata bianca dalla LN di Sicilia. Intanto però il direttore sportivo Massimo Parisi continua a calare i suoi assi. Dopo aver fatto mettere nero su bianco su due calcatori argentini, due croati e all'attaccante ivoriano Ibrahim Bamba, ecco un altro colpo di valore e questa volta gelese d'oc. E' arrivato infatti in difesa il forte centrale Angelo Rechichi. Il calciatore, classe 2002, arriva nella rosa dell'Aquila giallonera dopo aver calcato palcoscenici importanti con la maglia della regina. Tre anni con la squadra primavera nella quale è stato anche il capitano. Poi la mezzia terme e gravina in serie D. Proprio in terra pugliese il giovane talento gelese si è messo in mostra segnando al suo esordio da difensore un gol con i gialloblu. Un innesto dunque importante per la squadra allenata da Francesco Evola che rinforza ulteriormente il reparto arretrato. La rosa sembra al completo ma non è da escludere che il DS Parisi possa piazzare altri colpi. Il tecnico Evola ha iniziato a lavorare con i suoi da una settimana sul prato artificiale del Mattei di Macchitella. Sudano invece e corrono allo stadio Presti i ragazzi di Mirko Fauciana. La SS di Gela si è presentata alla ripresa degli allenamenti per il torneo di promozione con pochi ma sostanziosi ritocchi. Gli innesti di calciatori gelesi di grande affidabilità come Sebastiano Cosentino, Davide Floridia e del bomber Tony Sherra unite alle conferme dei vari Pira, Tuve, Brasile, Ascia, Fiore, insieme a tanti giovanissimi che arrivano dal Vivare del Real Gela consentono al tecnico Fauciana di poter avere diverse soluzioni. Non è comunque da escludere l'arrivo ancora di un portiere, un difensore centrale e un altro centrocampista.